E siamo qui con la nostra ospite di oggi, l'assessora Gaia Romani, assessora ai servizi civici. Buongiorno, assessora. Buongiorno, Fabio. Grazie per l'invito. E sempre bello quando il comune di Milano entra nel nostro studio. Siamo contenti perché dopo il voto si fa l'analisi del voto e tutto. Adesso vogliamo analizzare un po'. Analizziamo l'analisi del voto. Andiamo a capire più che altro cosa è successo, ma non tanto chi ha vinto e chi ha perso, ma anche perché qui, secondo me, ha vinto in pochi. Ha un po' perso tutti, mi sa. Come ad esempio anche la partecipazione, non solo, perché quando si parla di partecipazione non è solo chi va a votare, ma anche chi magari si mette al servizio per fare le votazioni, per fare le elezioni. Parliamo degli scrutinatori, parliamo dei presidenti di seggio. Quella cosa che gestisce il tuo, di castero stavo per dire, il tuo assessorato. Il mio assessorato, sì, si occupa dell'elettorale. Guarda, è una di quelle attività di, come dire, backstage, che per un'assessora è veramente affascinante seguire e vedere. Ormai, tra l'altro, io ci considero un po' highlander dell'elettorale, perché in pochissimi, in tre, in quasi tre anni, neanche tre anni, abbiamo già avuto quattro appuntamenti elettorali, quindi oltre alle amministrative del 2021. Sono tanti, perché di solito chi ricopre questo ruolo, escluse le elezioni con cui entra e escluse le elezioni con cui finisce, magari in cinque anni fa uno o due appuntamenti elettorali. Io invece ne ho già fatti quattro, in neanche tre anni. Quindi è bello, perché ormai ci sono entrata, diciamo, dentro e mi appassiona molto. Cioè, devo dire, è molto affascinante come meccanismo. Parliamo, perché l'abbiamo letto su tutti i giornali, tu hai fatto anche degli appelli proprio per questo, perché comunque quest'anno c'è stato un problema sulla, risolto tutto, lo diciamo già subito, si è risolto tutto egregiamente, ma sulla composizione dei seggi. Cioè, è stato difficile trovare chi andasse a fare punto scottinatorio o presidenti. Sì, abbiamo avuto. Intanto, diciamo che per raccontare anche alle persone che ci stanno ascoltando come funziona, tutti i comuni hanno degli elenchi che cercano di tenere aggiornati, di tutte le persone che nel tempo si rendono disponibili a fare gli scrutatori o i presidenti di seggio. Noi, in particolare, abbiamo degli elenchi da un buon numero di persone, circa 20.000 persone. Ok, su quante seggi ci sono a Milano? 5.120 persone abbiamo bisogno. Le sezioni sono 1.247, quelle ordinarie, e poi abbiamo 66 seggi speciali, quindi ospedali. E quindi una lista di 20.000 persone, più o meno. 20.000 persone. E ne avete bisogno di 5.000 qualcosa. Esatto, e tu proprio ne devi chiamare 5.120, quindi inizialmente tu devi convocare quelli di cui hai bisogno. Abbiamo avuto 2.500 scrutatori e 600 presidenti che hanno, si dice, rinunciato all'incarico, che sono tantissimi. Non ne avevamo mai avuti così tanti di rinunce, anche perché devi pensare che è un qualcosa per cui tu puoi rinunciare in teoria per grave impedimento. Quindi dovrebbero esserci delle ragioni valide. Sicuramente, quattro appuntamenti in tre anni forse non aiuta, ecco mi viene da dire. Se non aiuta a te, immagino la signora che si è registrata magari 20 anni, 30 anni fa, che dice, vabbè, tanto tanto lo faccio una volta ogni 4-5 anni, e invece poi… Esatto, e poi sono sempre state convocate anche su due giorni. Questa cosa si dice che di solito, diciamo, venga decisa in un'ottica di maggior affluenza, dare alle persone più mestre di tempo, esatto. Però in realtà, come dire, secondo me, da quello che noi abbiamo testimoniato a Milano, non crea questa grande partecipazione in più, ma al contrario diventa molto più complesso da gestire e da sostenere come sforzo per le persone che sono ai seggi, perché consideriamo che sono circa 8 ore sabato e un minimo di 14 ore fino a un massimo di 20 ore di domenica, quindi significa 28 ore di lavoro pagati, tra l'altro, e questo è un altro tema, meno di 4 euro l'ora. Quindi è bellissimo lo spirito civico, ma, come dire, sicuramente avere avuto tante lezioni, sempre più su più giorni e con compensi veramente molto bassi che non vengono mai aggiornati, tutto questo fa sì che poi per noi diventi un po' complicato comporre i seggi. In più, questo dato credo tu non lo abbia, ma vorrei capire anche l'età media di chi è registrato lì, che è sicuramente un'età molto avanzata anche, quindi, insomma, anche quello c'è da dire, è complicato anche quello come tema, nel senso che sicuramente bisogna fare qualcosa per cui magari i più giovani si possono avvicinare a questa esperienza. Assolutamente, guarda, noi in realtà abbiamo da qualche tempo iniziato a mandare una lettera a casa dei neo-diciotenni, in cui li invitiamo anche a fare gli scrutatori, però sai, un conto è ricevere una lettera, un altro magari è vedere una persona in presenza anche mezz'ora in classe che ti racconta l'attività e ti invoglia, quindi dovremo provare un contatto più diretto. Assessora Romani on tour, ci aspettiamo da settembre nelle scuole. Ma, guarda, abbiamo già iniziato a fare delle attività con il Parlamento europeo, con l'Ufficio del Parlamento europeo sul voto. Sì, avete fatto degli incontri, cioè, un mesetto prima dell'elezione avete visto a girare la città, mi ricordo. Esatto, è stato molto bello, è stato molto formativo, però ci siamo resi conto, noi facciamo sempre, come dire, alla fine l'analisi di cosa è andato bene, cosa è andato male. Ecco, è stata una bella esperienza, ma deve essere continuativa, quindi ci siamo presi questo impegno e lo vogliamo portare avanti. Per cui dobbiamo fare un po', diciamo, un pacchetto di azioni civiche e sicuramente andare più ripetutamente nelle scuole, mettendo insieme chi già lo fa. Quindi, per esempio, cito Fondazione Megalizzi, che sono tutte in realtà a Milano molto attenti a questo tema, quindi che già vanno nelle scuole, nelle 35 ore dedicate all'educazione civica. Quindi cercare di sistematizzare un po' di più questa presenza e questo ingaggio. Ha detto l'educazione civica, però è quella cosa che adesso diciamo, ci vorrebbe l'educazione civica a scuola. C'è l'educazione civica a scuola, appunto, bisogna solo farla bene, nel senso di riuscire a strutturarla di più, magari, e farla anche, magari, legata poi appunto a temi importanti come quello del voto, in questo caso, e tutto. Andiamo avanti a parlare ancora, ma fra poco, perché prima ci fermiamo con una piccola canzone, ma non prima di fare gli auguri alla nipote di Alberto, che ci scrive in questo momento al 3317853555, dicendo in bocca al lupo a mia nipote Alessia per gli esami di terza media, è vero, perché ci sono gli esami di terza media in questi giorni, quindi tante ore in bocca al lupo, appunto, ad Alessia, a tutti quelli che stanno studiando in questo momento, anche in vista perché domani, signori, domani inizia la maturità, invece, e domani mattina siamo lì, ti ricordi la maturità, sessora? Bruttissimo ricordo, cioè non vorrei dare queste vibes negative, però. Ma no, non voglio saperlo, non voglio saperlo, perché domani mattina siamo davanti a Carlo Porta in diretta, appunto, per sentire i ragazzi e le ragazze che andranno a fare la prima prova della maturità 2024. Intanto un po' di musica, poi torniamo qui ancora con l'assessora Gaia Romani. Scatman John con Scatman. Bellissima. 95, sessora, come ballavano? No, 95 non è anche nata. No, nel 96, guarda, me la sono persa per un anno, per poco, ma grazie a te la recupero. Ah, vedi, bene, bene, sono contento. Ma come vi siete, che risposte vi siete dati appunto al fatto di non aver trovato, cioè, poi li avete trovati in estremi, tutta questa fatica nel trovare le persone per fare i seggi. Qual è stata, secondo voi, quali sono le motivazioni? Non credo che ce ne sia solo una. Sì, io credo che siano più di una. Allora, partiamo dalla più scomoda, diciamo, da quella più pesante che sicuramente c'è, che è questo grande tema della partecipazione e in qualche modo del calo del senso civico, che, come dire, è più scomoda perché è anche un po' più complessa da affrontare, è un tema talmente grande, senza contorni, che, sai, noi facciamo tante iniziative per provare a fare la nostra parte su questo, ma è sicuramente un qualcosa che riguarda tutte le democrazie e che, quindi, a livello comunale, deve essere affrontato, ma allo stesso tempo sembra che un po' ci sfugga, no? E poi, dall'altro lato, il fatto che, appunto, siano convocate su più giorni le elezioni, questo, secondo me, non aiuta, perché anche, invece, chi magari vorrebbe dare una mano, sai, giugno è comunque un periodo in cui siamo forse tutti un pochino affaticati dall'anno, quindi dare disponibilità a due giorni interi. Allora, io, saggezza popolare, la chiamo così, più di un anziano del quartiere mi ha detto gualla che bisogna andare a votare d'inverno, mi dicevano così, e la risposta è quella, mi hanno detto, perché d'estate si arriva stanchi, poi c'è il bel tempo, la gente ovviamente se ne va in giro, quindi non ha voglia di star lì, invece d'inverno, all'avvino, lo fai quasi volentieri, così mi hanno detto, ma più di uno, mi hanno detto così. No, io mi fido, io mi fido molto del parere dei nostri milanesi più saggi, più anziani. Sì, sì, saggezza popolare. Saggezza popolare, sicuramente, quindi c'è un po' questo tema, quindi persone che magari vanno via o che in generale si sentono meno attive verso questa parte dell'anno. Il compenso, secondo me, gioca un ruolo. Non è quello. Adesso noi abbiamo, vediamo se funzionerà tutto bene, ovviamente speriamo di sì, perché per la prima volta daremo il compenso tramite accredito del bonifico bancario direttamente sul conto corrente, che è una cosa che ci chiedevano da tanto tempo. Lo chiedevamo anche noi l'altra sera, perché abbiamo una nostra amica che fa la precedente, ci chiedevamo come sarebbe funzionato questa cosa. Sì, prima dovevi andare a ritirarlo di persona, l'assegno, esatto, e diciamo dopo diversi mesi. Invece così entro un mese, quindi entro la metà di luglio, dovresti avere il bonifico se hai fatto la richiesta ovviamente per averlo, perché poi non tutti hanno il conto corrente, quindi rimane anche valida l'altra strada. E magari anche questa cosa qui aiuterà, perché se si sparge un po' la voce che comunque i tuoi 138, se sei presidente o 110 euro, se sei scrutatore, se sai che il mese dopo ti verranno accreditati, ecco magari come dire un po' più... Non devi aspettare sei mesi, magari lo fai anche più volentieri. Sì, non devi aspettare sei mesi, non devi andarle a prendere fisicamente, quindi magari così. E ecco, quindi tutto questo, due giorni secondo me io farei one shot, cioè io farei un giorno solo in cui si crea quella bella atmosfera, quello è il giorno del voto. Anche perché per lo scrutinatore poi appunto magari diventa due giorni, perché poi appunto voti un giorno intero, poi inizi la sera oppure la mattina dopo, quindi insomma alla fine comunque sono due giorni in cui sei lì. Sì. Questa volta sono rimasti in ballo praticamente dal sabato mattina, perché i seggi si sono costituiti il sabato mattina, poi apri alle tre del sabato, tutto il sabato sera, poi tutta la domenica a votare e poi alle undici inizi il scrutinio che magari finisce alle quattro del mattino. Sì, e questo secondo me è stato un altro elemento, perché invece alle regionali lì abbiamo fatto tutto un giorno, tutta la domenica e mezza giornata il lunedì e quindi come dire tu sapevi già che avresti avuto le attività di scrutinio dalle quindici in avanti. Invece in questo caso loro hanno fatto il sabato la mezza giornata e tutta la giornata la domenica e lo scrutinio la notte. Eh sì. Quindi è molto più pesante. Però non lo so, guarda, allora noi cerchiamo di inventarcene un po' di ogni, quindi tramite le università scriviamo agli studenti, tramite i neo diciottenni mandiamo a loro la lettera di auguri, regaliamo una coppia della Costituzione e li invitiamo a essere parte di questo grande momento di democrazia. Quindi insomma, un po' di idee ce le siamo fatte venire e ci stiamo attivando. Se qualche ascoltatore o ascoltatrice ha dei suggerimenti, noi siamo felici. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5 potete scriverci se avete qualche suggerimento. Ha parlato di università, beh, è andata abbastanza bene mi sembra il voto fuori sede. Sì, sono contenta, guarda, allora noi siamo stati, allora in generale in Italia... In generale contenta però è andata bene per il suo partito anche nel voto fuori sede. Esatto. Ecco, diciamoci la verità. E non solo nel voto fuori sede, dai, rispetto alle aspettative possiamo dire che... Sessora, non mi tocchi quel tasto che puoi sentire il sindaco che esulta perché il PD di prima partita a Milano dopo che non vanno a votare nessuno mi ha fatto un po' arrabbiare, devo dire la verità. Ti ha fatto arrabbiare? Sì, sì. Ma cos'è che ti ha fatto arrabbiare? Risultare per il fatto che dici che bello siamo il primo partito a Milano quando però in realtà più della metà della città non è andata a votare. Sì, quindi tu dici avresti voluto più un'esaltazione, diciamo, da senso civico-istituzionale e prioritizzare quel tema lì. Ma è vero anche che noi, come dire, pensiamo anche che il centrodestra abbia patito un po' questo fenomeno quindi sicuramente c'è anche un collegamento infatti Meloni dice noi abbiamo perso 600.000 voti ma i nostri sono andati a votare di meno. Ecco, c'è un po' questa cosa che si dice. Però, guarda, noi siamo contenti perché allora il voto fuori sede secondo me in generale non ha funzionato benissimo. Beh, prima volta ci stanno. Esatto, però, esatto, sono contenta che tu abbia questo spirito perché insomma è lo spirito giusto. ci sono altre cose che non funzionano e sono non la prima volta che vanno invece dette. In questo caso prima volta ci sta. Sono molto d'accordo. In più noi abbiamo fatto questo tentativo di far votare gli studenti nelle università che sembra una cosa scontata ma era la prima volta che a Milano nella storia della nostra città che il voto veniva organizzato nelle università ed era molto bello perché c'erano gli studenti che facevano gli scrutatori e i presidenti gli studenti che votavano quindi erano questi seggi diciamo molto giovani e seggi stile appartamento spagnolo esatto un po' un po' quella situazione lì diciamo ed è stato molto bello tra l'altro Milano siamo contenti perché abbiamo avuto 5.000 fuorisede che comunque se ci pensi anche qui su 23.000 a livello italiano averne 5.000 solo da noi quindi poco meno di un quarto fuorisede per le relazioni in tutta Italia hanno 23.000 23.000 mentre invece il 25% a Milano il 25% a Milano quindi possiamo dire che la collaborazione in questi anni rispetto a questo appuntamento con le università è stata sicuramente utile quindi noi abbiamo preparato un facsimile una sorta di vademecum all'università perché scrivessero gli studenti con anticipo bene chiarissimo allora festeggiamo appunto gli studenti che magari un po' di senso civico ce l'hanno più di noi anche magari il 25% è una bella percentuale il 25% degli studenti fuorisede in Italia ha votato a Milano insomma complimenti sono anche tanti i fuorisede a Milano ovviamente so che le percentuali sono sempre da prendere la media del pollo è sempre facile da farla però insomma in questo caso è un bel dato invece di partecipazione piccola pausa musica e poi torniamo ancora qui con l'assessore perché sono tanti temi che vogliamo affrontare scriveteci anche se avete qualche domanda per l'assessore è qua risponde a tutto praticamente sa rispondere a tutto quindi non ha paura di rispondere ai vostri whatsapp adesso Gali con Paprika Robert Miles con Children anche questo 1995 come Scatman di Prima e anche Robert Miles Children che hanno assessora allora arrivano i whatsapp per lei anche se non è proprio sul suo ambito però so che insomma riesce a dare risposta su tutto l'ho detto io quindi mi hanno preso in parola i nostri ascoltatori arrivano whatsapp da Marcello al 3317853555 dice assessore sono Marcello di Milano avete detto in campagna elettorale di togliere il pavé in centro Milano in via Rubens e nelle vie inutili ma ci sono ancora lì tutti quanti i pavé Marcello da Milano cosa risponde l'assessore ma intanto saluto Marcello e lo ringrazio per averci scritto sì in campagna elettorale è vero il sindaco ha detto che lì dove è possibile noi avremmo tolto la pietra diciamo quindi confermo che questa è la nostra è la nostra intenzione poi diciamo lo abbiamo lo abbiamo detto lo vogliamo fare abbiamo iniziato a farlo ovviamente come dire sono operazioni molto costose e che soprattutto nelle vie centrali necessitano dell'autorizzazione della sovrintendenza quindi non è un qualcosa di così immediato invece via Rubens ho sentito l'assessore alla mobilità che mi ha detto che era a conoscenza del fatto che il massello recentemente in via Rubens si è alzato quindi hanno fatto degli interventi manutentivi faranno degli interventi di manutenzione ma in questo momento non è in programmazione la rimozione della pietra ahia ahia Marcello devi tenerti il pavere sotto casa sincero su questo per il momento si non è in programmazione lì però una cosa molto bella che mi stava raccontando della quale non ero a conoscenza è che stanno facendo degli interventi per togliere la pietra e rimetterla in aree pedonali nuove meno decentrate quindi in un qualche modo per riempiegarla ok non buttare in tutto in un tratto della nuova ciclovia vento stanno riempiegando parte della pietra che hanno rimosso così se volete provare l'enebrezza della Parigi-Roubaix anche a Milano potete fare la vento e usare come il pavere della Parigi-Roubaix bene 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 insomma il tuo assessorato Gaia è un assessorato che insomma copre davvero tantissime diciamo sempre tutta la vita dei cittadini dalla nascita alla morte tu sei lì che ci segui ormai sono quanti anni che sei assessore a ottobre 3 a tre anni quasi a metà del cammino più o meno abbiamo superato da poco la metà del cammino ogni volta che passano l'assessore di qua chiedo un po' il bilancio non tanto economico del proprio assessorato ma più che altro di lavoro e umano anche sì allora io sono molto contenta devo dire intanto delle deleghe che ho avuto perché sono deleghe diciamo magari meno conosciute dai cittadini ma che restituiscono molto in termini di valore umano proprio per questo rapporto che si crea con il singolo cittadino il bilancio credo che sia positivo perché io non sono una figura tecnica nasco proprio diciamo come amministratrice locale più politica e le deleghe che ho ricevuto erano deleghe molto molto tecniche quindi non era scontato riuscire a come dire trovare una quadra tra me la direzione le persone che ci lavorano credo che stiamo facendo in questi anni tante cose che invece stanno riuscendo a restituire una dimensione un po' più politica a queste deleghe che forse in passato non l'avevano avuta e quindi penso per esempio all'introduzione dei funerali laici penso per esempio alla cura e all'attenzione che abbiamo riservato alla battaglia del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali penso alle iniziative di attenzione ai neodiciotenni abbiamo fatto delle direttive a un tavolo con i direttori delle carceri milanesi degli istituti di pena per agevolare l'ottenimento dei documenti da parte dei detenuti quindi stiamo cercando in qualche modo di portare quell'attenzione sulla persona che ci sta molto a cuore all'interno dei servizi e quindi di portare un approccio un po' più orientato alla persona che cosa vuol dire è che un servizio non è mai perfetto di per sé il cambio di residenza online può essere veloce e rapido per una persona che magari non ha un gap digitale mentre invece può essere un po' più complicato non necessariamente per una persona anziana ma per una persona che magari è a meno dimestichezza quindi noi abbiamo cercato di ribaltare un po' la prospettiva un servizio non è mai perfetto di per sé un servizio deve funzionare in maniera diversa a seconda della persona che lo richiede e quindi fare questo significa avere un'attenzione ai più fragili e significa cercare quindi di fare delle attività sul territorio come abbiamo fatto per esempio penso a BC Speed nei municipi penso a tante iniziative che abbiamo portato avanti proprio in quest'ottica cioè di mettere al centro le persone che magari avevano meno conoscenza della lingua italiana o che appunto persone detenute o persone meno digitalizzate è ovviamente un lavoro che è sempre perfettibile però mi sta restituendo tanto io che in municipio ho avuto un'esperienza più sulle politiche sociali quindi direttamente a contatto con approcciare in questo modo una delega tecnica è molto bello perché c'è tanta prateria non so come dire e tu hai diciamo declinato politicamente una delega tecnica un'altra delega che hai invece è quella del decentramento che lì in realtà nasce un po' più come quasi politica un po' più politica tu riesci a la razza un po' più tecnica quel caso è vero sei intervenuta invece nel cercare di rendere più snella o meglio più veloce diciamo la comunicazione soprattutto tra ancora molto molto difficile tra i municipi e il comune centrale sì allora lì è proprio una questione più gestionale mi spiego noi non siamo una città come Roma per certi versi per fortuna Milano pensate che Roma è dieci volte Milano il municipio nove è grande come la città di Milano quindi parliamo di una cosa immensa municipio nove di Roma municipio nove di Roma scusate sì il municipio nove di Milano è più grosso di Brescia però ecco quindi esatto sei sempre più grande di qualcun altro ecco e quindi diciamo che da quel punto di vista noi abbiamo cercato di mantenere un'orizzontalità maggiore cioè non cercare di avere nove repubbliche separate ma di avere un comune di Milano di cui ogni municipio si sentisse davvero parte e di rafforzare le funzioni cosiddette di indirizzo cioè il municipio è la realtà istituzionale che per costituzione da realtà istituzionale decentrata nasce per accorciare le distanze quindi abbiamo lavorato tanto sì è vero sui processi e sulle procedure per riuscire a far sì che quello che il municipio ci segnala o quello che il municipio delibera in qualche modo possa davvero essere preso in carico dall'amministrazione che cosa voglio dire che prima non lo prendeva in carico no ma che se tu non strutturi bene il processo posso arrivare a chiederti un parere quando ormai comunque il processo in qualche modo è andato quindi cambiare questo tipo di mentalità e capire che quando io chiedo al municipio un contributo non è una perdita di tempo ma è un investimento per migliorare il processo più a misura di quartiere più a misura di persona ecco questo è un qualcosa che richiede mettere mano a tutto a tutti i singoli aspetti dell'amministrazione ma questo ci tengo a dire lo abbiamo un po' deciso assieme cioè io all'inizio del mandato la prima cosa che ho fatto è incontrare tutti i presidenti e dire che cosa vogliamo fare la sessione romana è sempre on tour cioè c'è poco da fare è sempre altro che Vasco Rossi che si spiegherà a San Siro per sette date quindi vai in tour ma va fai sempre quello abiti lì invece no tutti i municipi tutte le scuole tutte le anagrafi tutti i cimiteri tutti ogni volta questa settimana facciamo tutti che cosa mense via cimiteri via anche quelle no mi piace molto beh io credo che sia molto parte del nostro lavoro conoscere e toccare con mano quindi è vero a me piace molto andare il tuo ufficio dov'è il mio ufficio è in via larga al secondo piano di via larga se tu rimani in via larga diciamo cosa ne sai di quello che succede a Grattosoglio o a Muggiano cioè non puoi fisicamente è impossibile credo no assolutamente tra l'altro guarda però tu sei una delle poche che ha quell'umiltà di dirlo nel senso e quindi di prendere motorino bicicletta auto blu quello che volete ma comunque uscire almeno ad andarsene in giro sì e Milano guarda io mi muovo tanto con i mezzi mi muovevo tanto con il motorino fino a poco tempo fa ogni tanto uso anche la macchina che noi abbiamo a disposizione come assessori è blu? è blu? no non è blu è bianca non è blu e ecco tra l'altro la grande Milano è incredibile perché tu hai citato Grattosoglio chi conosce Grattosoglio conosce le torri bianche di Grattosoglio ecco se tu vai a 200 metri più in là delle torri bianche di Grattosoglio c'è via Saponaro sì che è tutto un altro mondo perché comunque alla base delle torri bianche hai la casa delle associazioni cioè c'è una sorta di come dire centro ok invece se tu vai in via Saponaro che è poco più avanti ti ritrovi in questa via lunga in cui davvero non c'è niente adesso abbiamo aperto un nuovo centro giovanile che è via Baroni 85 che però ecco anche lì devi andare perché dentro ci sono Action Aid ci sono tante realtà ma ti rendi conto che non è assolutamente facile e scontato che da questa via senza appunto che non è stata abituata ad avere luoghi di aggregazione il passaggio per cui hai diciamo un nuovo riferimento in quartiere non è immediato e quindi devo dirti che girare è veramente utile perché nella nostra città 200 metri possono fare davvero la differenza e fa la differenza anche la musica qui con noi rimani per i saluti finali stiamo andando quasi a chi includere ma prima ci ascoltiamo Anna Lisa con sinceramente poteniamo qui con l'assessora Gaia Romani per chiudere per fare un po' anche i saluti finali insieme all'assessora e adesso Anna Lisa sinceramente questa è Good Morning Milano Cristal Radio 96.2 FM da Plus in tutta la Lombardia sinceramente Anna Lisa 8.50 qui quasi pronti a salutarci salutiamo l'assessora che ha un appello e un saluto per tutta la città ma così non ti avevo avvisato ma so che eri pronta sì ero pronta infatti allora visto che in questa pausa con questo bel sottofondo di Anna Lisa noi ci stavamo un po' raccontando la storia di Good Morning Milano e del posto in cui ci troviamo oggi io ringrazio tutte le persone che ascoltano questo programma perché credo che probabilmente hanno a cuore la nostra città perché è un programma che a differenza di tanti altri va sempre nel profondo delle questioni del nostro territorio e della nostra città quindi se voi siete degli ascoltatori evidentemente avete a cuore la nostra città per cui il mio invito per voi è intanto di scriverci di creare sempre di più un contatto diretto perché noi istituzioni siamo qui siamo umani non siamo non siamo lontane e anche magari mi piacerebbe scambiarci delle opinioni su che cosa vi ha mosso diciamo questo amore questo interesse per la nostra città da ascoltare un programma che altrettanto ha così a cuore e visto che io ho la partecipazione il senso civico anche tra le mie deleghe ecco credo che gli ascoltatori di Good Morning Milano sicuramente potrebbero aiutarci tanto nel capire come dalla loro passione possiamo un po' come dire coinvolgerne anche altri quindi ragazzi non fatemi fare brutte figure adesso vi ha fatto l'appello quindi mi raccomando niente brutte figure non facciamoci riconoscere come al solito lo dico subito a Nello che so che è in ascolto in questo momento con le sue battute oggi ci ha risparmiato quindi grazie mille abbiamo degli aficionados che io baratterrei tranquillamente con altri di altri programmi ma devo tenere questi quindi mi raccomando non facciamo brutte figure Assessora grazie mille davvero di essere da qui con noi oggi grazie a voi come sempre grazie di averci raccontato e di aver umanizzato appunto un po' l'istituzione del comune perché è facile è facile arrabbiarsi con voi è facile lo faccio anch'io tutti i giorni mi raccomando se da Cossala gli sfischieranno le orecchie tutti i giorni perché ho sempre tutti i giorni qualcosa da riproverargli quindi sarà felicissimo di questo però poi quando le cose invece funzionano quando le cose si possono fare anche nella migliore delle maniere o almeno a volte dico anche solo provare a fare le cose bene poi a volte vengono a volte non vengono ma insomma appunto siamo esseri umani assolutamente e soprattutto noi siamo affezionati ai nostri milanesi e che non si accontentano mai e di questo noi siamo grati nel senso che vuol dire che sono abituati al fatto che noi lavoriamo bene e vogliono sempre di più da noi e anche questo è giusto è giusto e grazie appunto per tutto il lavoro che fate un saluto a tutto il nostro ufficio che tramite l'ho conosciuto sono simpaticissimi grazie c'è quella signora che c'è fuori quando vai a fare le partecipazioni le pubblicazioni che è di una gentilezza una simpatia che tu dici ma vedi si può fare quindi saluta veramente a tutto il personale dell'anagrafe dei servizi civici poi magari anche degli altri non ho ancora avuto un modo di provare gli altri uffici adesso faccio quello dell'anagrafe poi magari un giorno faccio il giro faccio il giro di tutti gli uffici per andare a vedere ti accompagno andiamo insieme l'anno prossimo quando lo faccio a settembre ottimo ottimo facciamo un tour in tour in comune grazie mille grazie Fabio grazie a te grazie ancora e adesso andiamo con un po' di musica e poi qui torniamo per i saluti finali